buongiorno 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 a tutti Silvia buongiorno buongiorno allora sappiate che abbiamo registrato tutto abbiamo già fatto tutto però siccome siamo in festa abbiamo anche i giornali abbiamo già registrato il nostro show che andrà in onda intorno a tocca a lui 10 e mezza dai 10 10 e 10 e mezza 10 10 e mezza 10 10 e mezza 10 10 e mezza ci sarà un rapper di ruggiero abbiamo commentato un po di calcio abbiamo fatto un po di cose nel frattempo visto che abbiamo Silvia Aprile qua questo tempo lo impiegheremo una canzone di Silvia Aprile te tocca devi andare in zona allora attenzione Silvia Aprile con i gemelli di Guidonia al secolo improvvisate qualsiasi cosa per la vigilia delle vigili acqua e sale la canzone natalizia acqua e sale tra l'altro ricordiamo che alle 10 andrà in onda l'edicola diciamo natalizia proprio natalizia senza hotello e posto è natalizia e la moglie del dottore silenzio mi metti la testa un po' no no alza ti appoggio al braccio sto facendo carriera ragazzi silenzio ora ci vuole silenzio non devi ridere non devi fa niente via la testa un po' no all'inguno che fanno What have you done, dear and the dear ones, old and the young, Merry Christmas, glory's over, if you want it, what have you done, a very Merry Christmas, a Happy New Year, let's up, if you want it, what have you done, a very Merry Christmas, a Happy New Year, let's say, oh re del cielo, tu signori, vieni in una grotta, dal freddo al gelo, for a son, 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.